Nella Piana di Gioia Tauro quello della sanità è il problema più sentito dai cittadini. Il piano di rientro ha di fatto lasciato in vita solo l'ospedale di Polistena ormai al collasso e in attesa della costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Palmi bisognerebbe potenziare l'esistente per non lasciare un territorio di 180.000 abitanti in apnea per la carenza di prestazioni sanitarie e posti letto. Per questo motivo i componenti della Commissione Sanità regionale guidati dal presidente Michelangelo Mirabello e dal consigliere gioiese Giuseppe Pedà hanno fatto visita ai dirigenti dell'ospedale di Gioia Tauro. Stamattina abbiamo conosciuto una realtà importante alla quale noi vogliamo dare più forza e ci siamo già prefissati delle scadenze nelle quali in Commissione affronteremo il problema complessivo dei presidi della Piana e dell'erogazione dei servizi sulla Piana. Un piano per il potenziamento degli ospedali di Gioia Tauro e Polistena già esiste ma allo Stato è rimasto lettera morta. L'atto aziendale è sicuramente un punto dal quale bisogna avviare un ragionamento perché sono previste l'erogazione di alcuni servizi che allo Stato per via delle carenze di personale non si riescono ad erogare. Pensiamo anche a una rivalutazione complessiva dei posti letto che sono previsti negli atti dei decreti commissariali e di quelli effettivamente attivati. Noi dobbiamo andare tendere verso la realizzazione degli obiettivi previsti negli atti del commissario ovviamente per farlo è necessario che si concludano le procedure concorsuali. L'impegno da parte di Mirabello e dei suoi colleghi è stato preso. Non resta che attendere e capire se porterà dei miglioramenti nelle prestazioni sanitarie o se tutto rimarrà come, vale a dire un disastro. Francesca Altomonte per la CNews24